Seduta straordinaria oggi pomeriggio del Consiglio Comunale di Cremona, prima volta nella vita politica cittadina, prima volta in Lombardia, seconda volta in Italia dopo l'esperienza del Consiglio Comunale di Roma a Ribibbia. Vogliono dimostrare attraverso questo Consiglio Comunale i politici la vicinanza ai numerosi problemi che il carcere deve affrontare, quindi il sovraffollamento, la carenza di personale, i frequenti episodi critici avvenuti al suo interno e anche il reinserimento sociale. Sono queste tra le tematiche che sono state discusse nell'ordine del giorno che è stato condiviso sia da maggioranza che da minoranza. Noi vogliamo essere capofila di un nuovo approccio che l'ente locale deve avere nei confronti delle case circondariali. Le case circondariali sono dei quartieri della nostra città e così vanno intesi, con le proprie problematiche, le proprie peculiarità e le proprie risorse da sprigionare dall'interno della casa circondariale per tutta la comunità. Il carcere ha bisogno di una serie di relazioni, di progetti con la città che esistono, che ci sono, che vanno implementati, perché senza questi progetti il carcere rischia di essere una realtà isolata e a sé stante. C'è la carenza del personale di tutti i comparti, i detenuti, alcuni dei quali presentano delle problematiche dovute al fatto di essere stranieri e poi la sempre più sentita necessità di una maggiore partecipazione della comunità esterna, quelle che sono le attività dei detenuti. Le problematiche del carcere sono molteplici, quindi ci sono detenuti extracomunitari, ci sono detenuti psichiatrici e lei può capire che questa tipologia di detenuti si riversa sempre su di noi come lavoro, in quanto tutti i giorni ci sono eventi critici.